Francesca, pronti? Prontissimi Massimo, vi aspettiamo numerosi oggi pomeriggio alle 17.30 per l'inaugurazione del nostro comitato elettorale. Siamo candidati nella lista del sindaco io e Massimo Fragola insieme a tanti altri amici e vogliamo portare in trionfo il nostro sindaco di Lecce, Adriana Polibortone. Ripeto, abbiamo bisogno dell'aiuto e dell'amicizia di tutti. A questa sera! Vi aspettiamo numerosi, 17.30 via Leotranto 111.